Un gol per un esordio stagionale con il sorriso tra i denti, ma un solo gol che sta molto molto stretto a causa di tante occasioni non trasformate in vantaggio rassicurante in vista del ritorno. In Coppa Italia, alto primo, sotto un caldo asfissiante, il paterno vince di stretta misura sul centro Sicilia, ormai ex Leonfortese, e rimanda ai destini del passaggio agli ottavi, a domenica prossima. Senza Belluso e Sangaré sono titolari gli ultimi arrivati a disposizione del tecnico rossazzurro Filippo Reciti, i pezzi pregiati del mercato di fine agosto Micoli e Baldè, nonché i tesserati della difesa di qualche giorno addietro Insidis e Otero. Panchino invece per Luca De Manuele, il gran caldo non scoraggia nessuno sin dall'inizio, Baldè si dimena creando il panico tra le maglie degli ospiti che rischiano seriamente di colpire con Maltese il diagonale a raso e un'uscita sotto treno del paterno che così con rabbia carica tutta forza. sull'asse Godino, De Cloe e manco a dirlo Baldè, l'eccessiva fretta di battere a rete delude le attese e allora spingi che ti spingi, metro dopo metro, a bucare definitivamente la porta del centro Sicilia e Salvo Maimone, il capitano, arrivato dalla D con l'obiettivo di riportare il paterno in D. Un sinistro non stratosferico ma efficace, quanto basta per il sospirato 1 a 0 del minuto 16. Ha segnato con il numero 7 Salvo Maimone! Il momento migliore dei bianco-verdi ospiti è in risposta alla KO incassato, Caputa per poco non anticipa il Romano che si salva da un gol in prospettiva Coppa abbastanza pesante. E lo stesso fa Niang che tenta di portare un po' di gelo sui quasi 40 gradi di questa domenica. Il finale di tempo è di nuovo Marca Paternò, Maimone tenta il bis ma alza troppo il sinistro da piazzato ma la chance più di grido è al 40esimo. Baldè per Napoli che la mette in mezzo, De Clos e Micoli, entrambi ex Ionica, devono ancora trovare l'affinità con la porta. Non da meno Asero tra i superstiti della passata stagione in D che a inizio ripresa cerca il jolly da notevole distanza senza risultati. Baldè affetta il centrocampo ospite, fa salire mezza squadra l'assist per De Clos sulla mancina, finisce con un amaro esterno rete e se ne va. Un'altra occasione che sta davvero di beffa quando, mostrata a tutti gli effetti l'affinità ormai storica con Micoli, va a centrare con la medesima dinamica in legno della porta destra avversaria. Non la sola occasione clamorosa in effetti perché si mette in mezzo Gallego tra i pali ennesi ed il benedetto bis non ne vuol sentire di arrivare. Piuttosto bisogna guardare all'altra metà campo con l'operazione rilancio del centro Sicilia, con l'unico in grado di poter reggere l'attacco, Caputa. Opportunità numero tre del centro Sicilia all'ora di gioco e palla alta che crea qualche brivido di troppo al paterno. Rassicurato successivamente da Romano sulla punizione con il lifting di Cacicia, qualche rischio sì, ma ci può stare nell'economia della partita. Quel che non quadra per il paterno invece è la bella dose di imprecisione e soprattutto sfortuna. Quella di Maimone e del Palo a metà tempo ed è il secondo legno di giornata. Nonché quella di Asaro che due volte bussa nei 16 metri avversari, prima proponendosi di testa su assistenza al telecomando sinistro di Floro Valenca e poi spedendo quasi fuori dallo stadio un sacrificio dell'immenso Baldè. Entra nella finale di partita De Manuele che con qualche idea in più potrebbe già ipotecare il discorso qualificazione, ma gli ingranaggi nel gruppo squadra per l'ex Leonzio vanno oleati nei prossimi giorni. Al Falcone Borsellino finisce 1-0 per il paterno che partirà da qui alla volta di Agira domenica per l'obiettivo qualificazione al secondo turno di Coppa Italia. Intanto giovedì caccia al calendario del campionato che scatterà tra il 9 e il 10 settembre.